Don Antonio Mazzi, come stai? Ciao, 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 auguri, buona Pasqua a tutti! Anche a te. Anche se vi devo dire che quest'anno la Pasqua è stata dolorosa con i morti per il Soridanca. E quindi la frase, la frase è un po', mi fa un po' soffrire. Dentro all'uovo di Pasqua quest'anno c'è rimasto un chiodo. Dentro all'uovo di Pasqua quest'anno c'è rimasto un chiodo, purtroppo. Ciao, 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 ciao.